Io cito sempre Leopardi, che è nello zibaldone per distinguere la forza che lui vedeva rivoluzionare in Napoleone, l'assolutismo papale. Diceva che a Parigi, quando c'era da contrastare in una strada i malfattori, il degrato, le prepotenze, Napoleone mandava i giullari, gli artisti di strada di allora, i musicisti, i musicanti, e invece il Papa mandava l'esercito, mandava le guardie. Un teatro stabile di strada. A largo banchi nuovi a ridosso dell'Orientale, in pieno centro antico, due attori napoletani di esperienza internazionale immaginano la piazza come spazio teatrale davvero pubblico, in cui si esibiscono liberamente per i passanti. Bruno Leone, maestro dell'antica tradizione delle guarattelle, e Angelo Picone, esperto di teatro di strada e interprete di Pulcinella, sono testimoni di una tradizione antica e variegata fatta di burattini, clowneri, arti circensi, improvvisazione. Un lavoro prezioso che difende con la bellezza uno spazio minacciato dal degrado, su cui si affaccia la secentesca chiesa dei Santi Cosma e Damiano, che nell'abbandono ha smarrito ogni traccia di sacralità. Questa piazza è innanzitutto una piazza meravigliosa e bisogna saperla vedere, perché veramente c'è una luce e un'acustica rare, diciamo, è proprio nata per farci il teatro, per farci delle cose. Noi vogliamo che la gente scelga di vedere il teatro, anche in strada, come si sceglie di andare a teatro e di creare quell'attenzione. Questa piazza è perfetta, questo vogliamo fare, un teatro stabile di strada, a largo banchi nuovi, dove poter ospitare compagnie di tutto il mondo e già ci stanno venendo, in effetti. Teatro di strada per aggregare, per educare i bambini del quartiere, per contribuire alla crescita civile, ma anche una forma d'arte molto apprezzata dai turisti e dunque risorsa su cui investire. Far vivere gli artisti di strada in un territorio privilegiato, come è il Centro Antico di Napoli, significa costruire economie nuove, economie diverse e portare possibilità di amore, di affezione. Perché se io ho conosciuto Nunzio Zambello a Piazza del Gesù, 60 anni fa e più, quando la domenica Zambello si metteva sotto l'obelisco e Bruno Leone ha ereditato quest'arte meravigliosa, quanti altri bambini possono affezionarsi al gioco delle guaratelle in una piazza come Piazza Banchi Nuvi, quanti altri turisti possono venire e vedere e quindi quanti esercizi commerciali possono vivere dal teatro di strada che fa vivere a sua volta non solo la fantasia, ma anche il territorio. La stagione di autunno Pazzariello comincerà il 2 novembre con un omaggio a Totò e proseguirà ogni domenica mattina di novembre con Luca Provenzano in Mr. Trump gioco equilibrista, Yoshi Yanagisawa mago dei palloncini, Pierluigi Francione in Shakespeareando Hamlet e l'Associazione Perla Etnica in Lilis. Oltre informazioni sulla pagina Facebook di Vico Pazzariello. Ogni giorno a Napoli c'è una lotta tra degrado e bellezza e quindi noi dobbiamo essere vicini, trovare le strade per cooperare con tutti coloro che sono in grado di inventarsi in qualche modo questa lotta per la bellezza e per la socialità.